Prosegue l'attività di contrasto allo spaccio e alle fumarole da parte dei carabinieri di Vittoria. Un disoccupato di 26 anni è stato arrestato perché trovato in possesso di diverse dosi di hashish, marioane e cocaina, per un totale di oltre 35 grammi circa, oltre a un bilancino di precisione e a vario materiale usato per il confezionamento della droga. I militari dell'arma, dopo una lunga attività di osservazione e pedinamento nei pressi dell'abitazione del ragazzo, hanno fatto accesso all'interno della sua abitazione seguendo una perquisizione domiciliare. Il giovane adesso è ristretto ai domiciliari. Un bracciante agricolo di 19 anni è stato arrestato per resistenza pubblico ufficiale. Il giovane, che era alla guida di un ciclomotore insieme ad un'altra persona, ha sprovvisto di copertura assicurativa. Il giovane non si è fermato all'alte dei carabinieri. Dopo un breve inseguimento per le strade di Pedalino, il giovane ha perso l'equilibrio ed è caduto a terra. Subito dopo è stato arrestato mentre il passeggero ha fatto perdere le proprie tracce. A seguito di una perquisizione personale veicolare, l'arrestato è stato trovato in possesso di un coltello da cucina privo del manico con lama seghettata lunga circa 11 centimetri. Il materiale rinvenuto e il ciclomotore sono stati sequestrati. Ad Acato, in 35 anni di Niscemi, è stato denunciato per combustione illecita di rifiuti. L'uomo stava bruciando sulla spiaggia di Marina di Acate un cumulo di materiali di varia natura, tra cui plastica, vetro e polistirolo. I militari dell'arma sul litorale hanno individuato un cumulo di circa due quintali di materiali vari già bruciati su una superficie di circa 80 metri quadrati, tra i materiali incendiati assimilabili a rifiuti di scarto dell'attività di un'azienda agricola di proprietà del denunciato. Trovati anche legnami, cartoni e alcune piante di pomodoro. L'area è stata sequestrata per consentire i successivi accertamenti tecnici. A Marina di Modica denunciati per guida in stato di ebrezza tra i giovanissimi. Una giovanissima modicana di 26 anni che era alla guida con un tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito dalla legge. Un giovane di 25 anni, Modicano Anchegli, ha riportato un tasso alcolemico di 0,89, tanto da far scattare la denuncia, e un 23enne con un tasso di alcol nel sangue di circa due volte il consentito. Tutti e tre, oltre alla sanzione penale, è stata sospesa la patente. A Ispica, un 53enne è stato arrestato in flagranza per furto aggravato di oltre un quintare di carrubbe. L'uomo stava sottraendo su una strada in un terreno di proprietà comunale alcuni sacchi del prezioso frutto. Dopo averlo bloccato ed identificato, i carabinieri hanno verificato che aveva già sottratto oltre un quintale e mezzo di carrubbe per un valore di circa 150 euro. L'area furtiva è stata riconsegnata al comune.